Proseguono le operazioni di recupero dei rottami dell'aereo rinvenuto nelle acque a largo di Acciaroli nella giornata di ieri. Si tratta dei rottami dell'aereo scomparso nel 2018. Le operazioni sono particolarmente impervie vista la profondità dei fondali, circa 50 metri. L'equipaggio del peschereccio infante ha ritrovato nella giornata di ieri i resti nei pressi di Castellabati e immediatamente ha allertato il personale del nucleo di polizia giudiziaria di Agropoli, che sotto il coordinamento del comandante Cimmino ha prontamente attivato tutte le procedure di rito. Si tratta del veivolo ultraleggero modello Savanna con a bordo Giuseppe De Maggio di 56 anni di Messina e la 53enne Rossella Gimignano di Catanzaro, che avevano partecipato alla 18esima edizione del meeting di Primavera a Castiglione del Lago in Umbria per poi dirigersi a Nicotera in Calabria, prima di lanciare l'ultimo SOS agganciato nei pressi del Monte Stella nel Cilento. Dopo il Monte Stella le ricerche si sono spostate tra sapi ed ispani fino poi a scandagliare i fondali di Acciaroli. Qui, giusto un anno fa, furono ritrovati solo alcuni rottami e poi nessun'altra notizia, fino all'epilogo di ieri. Grazie